Musica Si schianta con la moto contro una mietitrebbia a Castelfidardo perde la vita un giovane centavo. Musica Tentano di rubare due volte in meno di quattro ore nella stessa azienda di Cucurano di Fano colpi sventati dalla vigilanza privata. Tavola di legno cade sopra un'auto in sosta all'appello di un residente che denuncia la pericolosità dell'impalcatura all'ex asilo Manfrini a Fano. Intercettare finanziamenti e studiare progetti per tutelare l'ambiente e migliorare la qualità della città. Aperto a Fano l'ufficio Energia con un professionista del settore. Mostre e conversazioni con gli artisti, presentazioni di libri e 50 autori coinvolti alla Rocca Malatessiana di Fano. Torna Centrale Festival dedicato alla fotografia e all'arte contemporanea. Venerdì sera l'inaugurazione. Musica Campionato europeo di boccia alla lunga. Niccolò Altea, 31enne di Piaggio e trionfa in Germania e si aggiudica il primo tiro più lungo su strada. Musica Mercoledì 8 giugno, buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. In apertura l'incidente mortale che è avvenuto oggi intorno alle 13 a Castelfidardo, in provincia di Ancona, dove in via 25 aprile una moto si è schiantata contro una mititrebbia. L'impatto tra i due mezzi che è avvenuto sul rettilineo di fronte al poliambulatorio purtroppo è stato fatale per il centauro. Si tratta di un ragazzo del posto di 26 anni. Tutti i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Sul logo dei sinistro sono intervenuti i sanitari del 118, con l'automedica e la Croce Verde, l'eliambulanza e le forze dell'ordine che stanno indagando sulla dinamica. A Fano, invece, un centauro è rimasto ferito in un incidente accaduto nel quartiere di Sant'Orso intorno alle 9.30. A scontrarsi un'auto Alfa Romeo condotta da un fanese di 87 anni e un ciclomotore guidato da un 14enne di Colli Almetauro. In base ai primi rilievi svolti dalla polizia locale, pare che si sia trattato di una mancata precedenza. Il conducente dell'auto infatti si stava emettendo su di Assoncino, mentre il giovane la stava percorrendo in direzione mare. All'arrivo dei vigili urbani i mezzi erano già stati spostati, ma sull'auto è stata rinvenuta una traccia gommosa sulla parte posteriore sinistra, riferibile all'impatto con la manopola sinistra del ciclomotore. Il 14enne è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso di Pesaro. E ora passiamo alle vostre segnalazioni che oggi ci portano in via Nazario Sauro a Fano, dove un residente ci ha fatto sapere, ci ha fatto ruttare la pericolosità dell'impalcatura installata all'ex asilo Manfrini. Alcuni giorni fa una trave di legno è caduta sopra un'auto in sosta. Tutti i particolari nel servizio che è stato curato da Filippo Pucci. A vederla così sembra una cartolina, il portocanale, le imbarcazioni, il faro, le anatidi. Peccato che ruotando poco la testa ci si imbatte ancora nella fattiscente struttura dell'ex asilo Manfrini di via Nazario Sauro. L'edificio, che mostra i segni del degrado, è stato impalcato prima del 2012 per la pericolosità della caduta di calcinacci e intonaci. Passati ormai diversi anni, anche il ponteggio, formato da dei tubi in metallo e travi in legno, hanno iniziato a marcire lentamente tra la salsedine e le condizioni meteo. Non ultimo, alcuni giorni fa, una tavola in legno è caduta sopra un'auto in sosta che, per fortuna, non ha recato danni a persone o cose. A segnalare la pericolosità, un giovane residente. Io ho notato circa un paio di giorni fa il crollo letteralmente, il crollo di alcune travi, tutte quante, tutte marce, e sono cadute sia sul cofono che sul tetto di un camioncino parcheggiato a lato della strada. E per fortuna che c'era un camioncino, perché se non ci fosse stato quello, fosse passato un bambino, un anziano, una persona comunque in difficoltà che abita in questa zona, gli sarebbe potuto cadere in testa e avrebbe potuto farsi veramente molto male. La mia preoccupazione è questa, che noi da residenti, almeno io parlo per me, da residenti sono molto preoccupato per la situazione attuale. E' una situazione veramente insostenibile questa, a parer mio. Ho deciso di denunciare questa cosa pubblicamente, non ho ancora fatto alcuna denuncia scritta né ai carabinieri né al comune, perché so che alla fin fine andrebbe a cadere nel vuoto. Inizialmente al posto di quella struttura dovevano nascere delle case popolari, progetto che non è stato approvato dal demanio. Nel frattempo, visti i tempi ancora lunghi, i residenti chiedono interventi da chi di competenza, anche perché, nella parte del camminamento, lato sottopasso, ci sono altre travi pericolanti e prossime alla caduta. Noi chiediamo, almeno io chiedo, questa struttura venga o comunque sistemata, almeno l'impalcatura venga messa in sicurezza, in maniera tale da non far sì che si possano creare futuri problemi, insomma così. Non voglio un giorno ritrovarmi con un bambino che si è fatto male, che si è trovato una trava in testa, o un anziano, ripeto, o una persona disabile, perché è veramente scandalosa una situazione così. E non è giusto neanche per noi. Io, ripeto, io sono qui da un anno e mezzo, ma ci sono persone che abitano da molto più tempo di me qui, da diversi anni, e loro sono veramente molto stanche di questo scempio, perché chiamiamolo così, è uno scempio. E una prima risposta è arrivata dall'assessore Sara Cucchiarini, che ha annunciato la richiesta di trasferimento del bene, di proprietà del demanio, ma anche un nuovo progetto di recupero e di messa in sicurezza. Assessore, cosa possiamo rispondere ai residenti sulla situazione dell'ex asilo Manfrini, tra impalcatura pericolante e i futuri progetti? L'immobile Manfrini ha un'impalcatura che abbiamo già segnalato per la sua inadeguatezza. Ricordiamo che quell'immobile non è del Comune di Fano, ma del demanio regionale. Su quell'immobile c'è un interesse da parte del Comune di Fano, perché è in un punto strategico di una zona meravigliosa, che deve essere riqualificato, per cui possiamo comunicare che c'è in corso da parte del nostro Comune una richiesta di trasferimento del bene attraverso la legge del federalismo demaniale e culturale, con un progetto nuovo che stiamo portando avanti di completa rifunzionalizzazione dell'immobile per restituire lo stesso alla comunità portuale in un posto strategico e molto caratterizzante. Per cui c'è un iter che noi stiamo facendo per far sì che il demanio ce lo trasferisca, in modo tale così che il Comune di Fano possa comunque mettere in sicurezza con agevolezza l'immobile, ma allo stesso tempo anche valorizzare completamente l'immobile stesso e tutto il quartiere legato al porto. Doppio tentato furto la notte scorsa nel capannone dell'azienda di escavazioni Satise a Cucurano di Fano. Intorno alle 2.30 la centrale operativa della Vigilar è arrivata a una segnalazione proveniente dal magazzino della rimessa. Gli agenti, grazie al sistema di allarme che invia anche fotogrammi video, hanno potuto constatare in tempo reale che cosa stesse succedendo. Infatti, dalle immagini si intravedevano due persone non autorizzate nel perimetro dello stabile. La pattuglia di zona, intervenuta sul posto, ha messo in fuga i malintenzionati. Poi però, intorno alle 6, l'allarme è scattato di nuovo. Questa volta l'operatore della centrale, dopo aver notato ben sei soggetti nel deposito mezzi, ha attivato quattro pattuglie di pronto intervento, ma i ladri sono scappati a mani vuote per i campi adiacenti, facendo perdere le loro tracce. Il titolare dell'azienda provvederà a sporgere denuncia. Un altro incidente si è verificato a Fano poco prima delle 14.30 per cause ancora in fase di accertamento. Nell'incrocio tra via Squarcia e via Fanella si sono scontrati un fiorino condotto da un fanese di 55 anni e una bicicletta guidata da una sedicenne del posto. A causa dell'urto, la ragazza prima è finita sopra il furgone e poi è caduta a terra riportando diverse lesioni. Sul posto la polizia locale è il 118 che ha trasportato la minorenne al pronto soccorso del Santa Croce. In un periodo segnato anche dal caro Materie Prime e dall'aumento dei costi delle bollette, il comune di Fano apre l'ufficio Energia con un professionista del settore che darà consigli utili per sviluppare progetti e intercettare fondi europei e del PNRR. Più attenzione all'ambiente per una città sempre più sostenibile. L'amministrazione comunale di Fano oggi ha aperto l'ufficio Europa rivolto agli operatori del settore sui temi legati all'efficienza e al risparmio energetico. Grazie a questo ufficio, ha commentato l'assessore Barbara Brunori, cercheremo di cogliere nuove opportunità e risorse per sviluppare progetti che vadano a difesa del nostro ambiente a beneficio dell'intera comunità. L'apertura dell'ufficio Energia è sicuramente una grande occasione per rinnovare quelle che sono anche le politiche ambientali di sostenibilità. La sostenibilità per noi è una motivazione vera e lo dimostriamo con i fatti. Questa sicuramente sarà un'opportunità per efficientare la macchina pubblica e andare a lavorare sia sull'attuale ma anche per attingere delle importanti risorse. A inizio anno abbiamo stanziato sul bilancio 45 mila euro proprio per fare un contratto con Enerico che ci ha individuato una figura che metterà a disposizione del Comune di Fano. È una figura strategica, siamo sulla direzione giusta, l'incarico, il contratto è di tre anni, non finirà qui perché la volontà è proprio quella di migliorare sempre di più. Ad illustrare maggiori dettagli il responsabile dell'ufficio Energia di Enerico, Davide Barbaresi. Per tre anni lavoreremo per il Comune di Fano insieme alla mia azienda per aiutare la macchina comunale a efficientarsi dal punto di vista energetico trovando delle soluzioni progettuali che in qualche maniera facciano risparmiare soldi e portando anche un beneficio dal punto di vista ambientale. Opereremo soprattutto su progetti che riguardano fotovoltaico, comunità energetiche, cercando anche di prendere bandi dal punto di vista europeo che in qualche maniera possono aiutare il sostentamento economico di queste iniziative. Iniziative, ha poi aggiunto la consigliera delegata Coraffattori che porteranno a migliorare la qualità della nostra città, scuole, strutture sociali, commercio e turismo. Oggi tutto passa attraverso bandi in cui l'aspetto ambientale ed energetico diventa determinante. Il progetto Ambientiamoci continua con il suo lavoro e attraverso la nomina di un ufficio Energia siamo assolutamente contenti di questo importantissimo passo. Perché importante? Perché adesso con il PNRR entriamo nel vivo di quello che l'Europa ci dice da più di dieci anni. Cioè bisogna fare progetti che siano dal punto di vista ambientale assolutamente professionali e capaci di interessare in modo trasversale servizi sociali, servizi educativi, lavori pubblici. Per fare questo ci vogliono delle competenze di altissimo livello. Questa figura sarà di supporto all'Energy Manager che già collabora con noi con grande successo da due anni e sarà di supporto a tutti gli uffici, a tutti gli assessorati. Dobbiamo intercettare più finanziamenti possibili per cambiare la nostra città e migliorarla. Senza queste competenze la cosa non è possibile. 20 milioni di euro sono troppo pochi perché si possa pensare a un completamento dei lavori troppi per sfregiare uno dei luoghi più belli della città, le colline di San Biagio. Così Tiziano Busca, dell'esecutivo provinciale del PSI, intervenuto sulla variante Digimarra. Mi auguro, ha proseguito Busca, che ci sia un ripensamento da parte dell'amministrazione comunale per due ragioni, il rispetto della bellezza e la consapevolezza che la soluzione di collegamento con Pesaro passa per altre strade, ad esempio il Casellino di Fenile. Una politica attenta e lungimirante, aggiunto, dovrebbe suggerire di destinare quelle risorse al collegamento di Fanusud, liberando tutto il tratto, da Torrette fino all'autostrada, unendo le opere compensative già realizzate. Busca chiede di aprire un dibattito in Consiglio Comunale e con la città. D'altra parte, per la strada Digimarra, il Comune di Fano procede spedito. Infatti questa mattina il Vice Sindaco Cristian Fanesi e il Dirigente all'Urbanistica Giangolini hanno incontrato il Presidente della Provincia per chiedere di stipulare l'accordo di programma. Infatti Regione, Provincia e Comune devono approvare in variante il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Abbiamo una scadenza che dobbiamo rispettare, ha detto Fanesi. Entro il 31 dicembre dobbiamo procedere, sotto il profilo giuridico, all'affidamento dei lavori. Noi rispetteremo questa data. La strada Digimarra è un obiettivo che vogliamo portare a termine per migliorare la viabilità. Cambiamo argomento. Venerdì si inaugura la tredicesima edizione di Centrale Festival che torna alla Rocca Malatestiana di Fano con decine di artisti, mostre e installazioni. Conversazioni con gli artisti, presentazioni di libri, esposizioni di opere fotografiche e di videoarte. Sono più di 50 gli autori coinvolti nella tredicesima edizione di Centrale Festival. La rassegna di eventi sulla fotografia e l'arte contemporanea a cura di Luca Panaro e Marcello Sparaventi. La manifestazione si terrà dal 10 al 12 giugno nella splendida cornice della Rocca Malatestiana di Fano. Negli ultimi anni siamo riusciti con l'aiuto del Comune di Fano e di tutte le istituzioni a portare questo festival a un rilievo davvero nazionale. Senza però scordare mai l'interazione col territorio. Infatti ci sono molti artisti della provincia di Piso Rubino e anche della città di Fano che metteremo in evidenza proprio nel cuore della città. Il programma prenderà il via venerdì alle ore 17 nella sala di rappresentanza della Fondazione Carifano dove verrà presentata la mostra intitolata Prova di Trasmissioni, una raccolta di progetti didattici realizzati da Centrale Fotografia con gli interventi degli autori. Le opere saranno esposte nelle vetrine del Caffè Centrale e a Centrale Dicola. La sera poi alle 21.15 verrà inaugurato ufficialmente il festival alla presenza delle autorità cittadine e degli artisti. Seguirà alle 23 l'apertura di tutte le mostre. Tanti incontri previsti anche nelle giornate di sabato e domenica. Allora, nella giornata di sabato è molto importante al mattino sotto i tigli della Rocca Matestiana la lettura dei porfoli dove chiunque gratuitamente, prenotando a info-centralefotografia.com può prenotare la propria lettura con uno dei curatori che hanno selezionato i lavori. E questa è una bella opportunità. Poi nel pomeriggio ci saranno tutti i vari interventi con gli artisti, alla sera pure. La domenica avremo invece uno speciale con un editore che si chiama Penisola. All'evento sarà presente anche l'artista Fabio Sandri, già ospite d'onore nel 2014, che nel salone principale della Rocca presenterà una grande installazione composta da opere recenti. Inoltre quest'anno verrà ospitato un progetto dell'Isia di Urbino dal titolo Fotografia, Identità e Territorio con le opere di tre studenti. Il programma completo è consultabile sul sito di Centrale Festival. C'è un appuntamento importante di arte contemporanea dedicata alla fotografia, Centrale Festival, la sua tredicesima edizione, ma in questi anni è cresciuta moltissimo. È diventato un punto di riferimento a livello nazionale e direi anche internazionale con i suoi collegamenti. È una finestra per giovani artisti, ma anche per coloro affermati. È la conferma che è diventato un punto di riferimento che poi questi autori, questi artisti, li ritroviamo in altri appuntamenti importanti nazionali ed internazionali. Quindi è un'occasione importante, è una vetrina per la città, ma soprattutto è un momento alto di arte contemporanea. Rimandato nelle scorse settimane a causa del maltempo, si svolgerà domenica a Spasso con Gio, un percorso cicloturistico, enogastronomico e culturale che offre un viaggio nella città di Pesaro, città della musica e della bicicletta. Il percorso gratuito è in sella alle due ruote e si svolgerà dalle ore 17.30 lungo le bici politane, con brevi tappe in cui sono previste delle piccole degustazioni fino ad arrivare alla palla di pomodoro, dove inizia e si conclude il tour con un mini concerto tenuto dal celebre pianista Mario Mariani, ambasciatore rossignano nel mondo. Per le persone affette da disabilità sono previste biciclette speciali per un percorso inclusivo a tutti gli effetti. Passiamo adesso al campionato europeo di boccia alla lunga che ha visto trionfare un giovane di piaggio. Si tratta di Nicolò Altea che si è aggiudicato il primo tiro più lungo su strada. Sollevato da amici e compagni di squadra per festeggiarlo fino a sollevamento in cielo del trofeo, tra applausi e grida di gioia, Nicolò Altea, 31 anni di piaggio e di terre roveresche, ha conquistato il titolo tanto ambito del tiro più lungo su strada durante il campionato europeo di boccia alla lunga che si è svolto in Germania dal 26 al 29 maggio. La manifestazione ha visto coinvolte le federazioni di Italia, Irlanda e Olanda, oltre a due tedesche. Ogni squadra era formata da tre donne e quattro uomini under 18 e sei donne e dieci uomini over 18. A spiegarci i dettagli della competizione è il coach Floriano Salucci, residente a Santa Maria dell'Arzilla. Ci siamo divertiti prima di tutto, poi rappresentare l'Italia è sempre una cosa emozionante e poi avevamo dei ragazzi, degli atleti molto ben preparati che ci hanno dato delle buone soddisfazioni, tra i quali Nicolò Altea che ha vinto il premio per il lancio più lungo su strada e un altro ragazzo che è arrivato non assoluto su più di 100 atleti. Ecco, ma come funzionava il campionato? C'erano diverse specialità, giusto? Il campionato si svolgeva in tre giorni, il primo giorno c'era una specialità che si svolge su prato, lanciamo un boccino di legno per 10 tiri sul prato, chi va più lontano naturalmente arriva al premio. Il secondo giorno invece era un lancio tipo il lancio del peso, però con un boccino molto più piccolo di legno di 475 grammi, lanciato nello stadio. Conta la somma di tre lanci, chi con la somma di tre lanci fa più metri risulta alla fine del vencitore. Poi alla domenica, che è la gara più importante ed è anche quella che si assomiglia più al nostro gioco che pratichiamo qui in Italia, è il lancio su strada. Mentre in Italia noi giochiamo con un pallino di pasta, in Europa si gioca con un boccino di ferro da 800 grammi. Oltre ai singoli giocatori premiati, la federazione che ha vinto il campionato, grazie ai vari risultati ottenuti dai partecipanti, è stata quella dell'Irlanda. Indossare la maglia della nazionale e rappresentarla è una cosa emozionante, specialmente quando riusciamo ad avere un buon risultato. Perché c'erano più di 5.000 persone a vedere questi giochi. C'è la batteria. Nicolò, lei è tornato da vincitore, come è andata e come è stata questa esperienza? È stata un'esperienza magnifica, stupenda, perché tornare con un premio del primo tiro più lungo in Italia e affrontare e competere contro i giganti dell'Irlanda, dell'Olanda e della Germania è stato qualcosa di fantastico. Ma questo, secondo me, voglio dirlo perché lo sento veramente, è una cosa che non è solo mia, ma la sento perché è una cosa di tutti, della mia famiglia, di mia moglie Chiara, che mi ha sopportato in questo periodo, dei miei amici, che in questo periodo di allenamento abbiamo sudato, faticato, abbiamo lottato insieme, e del mio team di Piagge, di tutti i collaboratori, gli organizzatori, il comitato dell'Abis e della FIGEST, dal presidente Marcello, Sanluci Floriano, Francesco Boiani, Capotone Fiorenzo e tanti altri. E anche, voglio ringraziare anche il nostro amico Davide Formica, che è stato lui il nostro promotore che ci ha inserito dentro questa realtà e il nostro caro amico. Noi continueremo a giocare e soprattutto adesso vorremmo organizzarci subito, fin da subito, per il prossimo Europeo 2024, che si terrà sempre in Germania. E' grande festa anche ad Ascoli Piceno, dove Filippo Zana ha vinto l'Adriatica Ionica Race, il 23enne Vicentino si è giudicato al primo posto della classifica finale, invece la quinta e ultima tappa di oggi, di 152 km, è stata vinta da Cristian Scaroni. E con il ciclismo chiudiamo qua il nostro telegiornale, l'appuntamento con le informazioni come sempre per domani mattina alle 7, insieme a Massimo Foghetti. Buona serata a tutti.